L'amatissima attrice e regista italiana Eleonora Giorgi ha recentemente attraversato un doloroso lutto che ha profondamente scosso il suo cuore. La tragica perdita che ha colpito Eleonora e suo figlio Paolo Ciavarro è stata la scomparsa di Maria Roma, madre di Eleonora e nonna di Paolo. Questo evento ha lasciato un'impronta indelebile nelle loro vite e ha suscitato un profondo dolore che hanno condiviso apertamente sui social media. Eleonora Giorgi ha omaggiato la memoria di sua madre con un commovente messaggio su Instagram, scrivendo «Mamma amatissima, buon viaggio nel tuo luogo preferito». Queste parole rivelano il legame speciale che Eleonora aveva con sua madre, nonostante una storia familiare segnata da difficoltà. In passato, l'attrice aveva condiviso pubblicamente i problemi familiari, compreso il difficile rapporto tra sua madre e lei, che si era incrinato quando il matrimonio dei suoi genitori si era concluso a causa di una seconda famiglia scoperta dal marito di sua madre. Tuttavia, questo lutto ha portato Eleonora e Paolo a unirsi nel dolore, mostrando la forza della famiglia in tempi difficili. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante. Grazie, ci vediamo nel prossimo video.